La Mazzucato ha delle suggestioni tecnocratiche, purtroppo però ha anche delle suggestioni politiche, cioè intanto lei guarda agli Stati Uniti dove quello che un tempo, diciamo ai tempi degli extra parlamentari di sinistra si chiamava il complesso militare industriale, ti ricorderai, il complesso militare industriale ha prodotto delle cose interessanti che hanno avuto ampia ricaduta privata. La Mazzucato pensa che si possa fare lo stesso qui da noi, adesso che ha abbandonato l'idea del complesso militare industriale americano, che in realtà l'America sta diventando un'oligarchia, lo vedete a occhio nudo, non è più la terra delle opportunità ma è una grossa oligarchia e plutocrazia, adesso La Mazzucato guarda la Cina, perché La Mazzucato è convinta che uno Stato a partito unico liberticida possa orchestrare le iniziative private, perché loro dicono alle imprese arricchitevi, vi dico io dove dovete operare, bruttissima idea peraltro, vi metto una cellula del partito comunista in azienda, non rompetemi le palle perché se mi rompete le palle l'imprenditore sparisce nottetempo e l'azienda viene guidata da qualcun altro. Però la Cina è potente ed evidentemente sulla Mazzucato esercita questa incredibile fascinazione, come possa la Mazzucato pensare di prendere il modello cinese, modello autoritario che peraltro ha enormi contraddizioni e rischia di implodere perché è un'economia che è andata in sovra investimento dopato e quindi prima o poi pagherà il conto, trasformarlo in una realtà nazionale come l'Italia che è il paese più vecchio del mondo e io questa cosa ve la dirò sempre perché il paese più vecchio del mondo non ha energia vitale, mentre invece i cinesi stanno invecchiando anche loro ma non sono il paese più vecchio del mondo, i giapponesi sono il paese più vecchio del mondo ma con una produttività stratosferica, robotizzazione, tecnologia, alti livelli di formazione di valore aggiunto, noi siamo il paese più vecchio del mondo con una produttività bassa, ma di che stiamo parlando?